Debo dire grazie alla Commissione Pari Opportunità per aver creato questo evento insieme peraltro con l'Associazione Moica e credo peraltro che quello che è venuto fuori da questo convegno in modo molto chiaro ed esplicito non solo è il ruolo delle donne nel risorgimento ma il ruolo delle donne nella storia e anche in questo nostro presente un presente che vive un po' di superficialità culturale, un presente che non ricorda il passato un presente che soprattutto non guarda il futuro, il ruolo della donna, il buonsenso della donna, l'intelligenza della donna credo che può darci una mano per uscire da questo tunnel culturale che caratterizza questo nostro tempo e nel quale peraltro ancora la parità uomo-donna è ben lungi dall'essere raggiunta al di là delle dichiarazioni e al di là degli intenti molto spesso espressi ma molto spesso anche dimenticati e non attuati.